Musica Benvenuti a tutti ragazzi Qui è Ron e noi siamo VG Con il nuovo video siamo tornati sulla Faproni E spacchiamo tutto Allora ragazzi oggi i video sono usciti Uuuuh Pochettino in ritardo E io muoio Perchè ho dovuto registrare stamattina Un unboxing Ehm si Lo vedrete alle 15 Anzi non alle 15 Penso dopo a sto punto perchè Esce tutto dopo Comunque oggi usciranno comunque i 3 video Ma saranno un pochettino sballati Ehm Allora ragazzi ho deciso una cosa La serie del 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 Delle 18 Della scalata di ultimate team Ehm non è chiusa Però Ehm farò meno video Nel senso che non uscirà Una volta al giorno quella serie Ma Una volta ogni 2-3 giorni Così posso lasciare spazio anche ad altri giochini Comunque Allora ho il nuovo mouse ragazzi Quindi non riesco bene a Ciocio a mettermi Un dato Perfetto Allora 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 Dobbiamo continuare la casa Allora 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 Ehm Dobbiamo fare tipo Così Scherzo Dobbiamo farlo ancora Più lungo di 2 1 e 2 Perfetto Allora Questa qui è la prima stanza La prima stanza La prima stanza Le altre stanze le farò mano a mano Quando servono Quando servono le stanze per rimacchinare queste cose E farò le stanze Allora Nel frattempo Ve lo farei una cosa lì sotto Però non ho Secchi d'acqua E non ho neanche ferro Dobbiamo cuocere il ferro Allora Intanto Cotto anche Il glass Ma ne facciamo Un altro stacchino Allora 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 Per adesso la casa è completata Dobbiamo fare solamente le pareti E tutto il resto E poi Ve lo farei un'altra bella cosa Quindi aspettiamo che qua c'è il L'ambara trattico Ci facciamo Un bel secchio Ci facciamo Una bella pala Oddio No 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 Sali 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 Madonna Non me ne ero accorto che era notte Cioè Non mi so Abito in cielo Senza tetto E non mi accorgo che è notte Però guardate il lato appetito ragazzi Qua sopra possiamo dormire sempre Ecco perfetto Adesso scendiamo ancora Olè No devi morire Tu lo sai Lo sai che tu devi morire Lo sai che tu devi morire Oddio No 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 Levati 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 Oh 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 ma non muore Ma non muore Ma è giorno Che poi non posso neanche prendere la roba e scappare Perché sono tutti qua Porca di quella boia Dovevo fare una cosa Muori stronzo di merda Noi Che palle Adesso mi faccio una spada E ti faccio vedere io come si fa Pure tu Zombie di merda Eh Zombie del cazzo Devi morire lo sai Lo sai che devi morire Bastard Di uno zombie di merda Olè O fare una cosa E tutti qua E mezzi coglioni Prendiamo l'acqua Allora Allora Facciamo così Perfetto ragazzi Questa qui è la nostra A parte acqua infinita È la nostra piscina Noi quando dobbiamo scendere Non c'è bisogno che facciamo tutte le scalette Ma Basta buttarci giù In modo Allegramente allegro Tipo così Olè E possiamo andare via Tranquilli Ok Quindi ragazzi Dire che per questo episodio Può bastare È stato corto Però Devo far uscire Tutti i video di oggi Quindi non ho Abbastanza tempo Ragazzi Per questo video è tutto Io vi saluto E ci risentiamo Allo prossimo video Ciao Ciao